In apertura l'ormai prossimo attracco a Ravenna della Ocean Viking, la nave della ONG SOS Mediterranea che sabato dopo un lungo viaggio sbarcherà in un porto sicuro le 113 persone salvate dal naufragio a largo delle coste libiche. Noi siamo entrati nella tensostruttura che diventerà l'hub dove saranno accolti i migranti col prefetto di Ravenna. Abbiamo ricostruito come verranno organizzate queste delicate operazioni. Tutto questo nel servizio di Serena Biondini. L'Ocean Viking è prevista l'arrivo proprio in questo punto qui, quindi al termine di questo molo. Saliranno a bordo i sanitari della sanità marittima per i primi adempimenti, controlleranno appunto le condizioni dei migranti. Ravenna termina il crociere di Porto Corsini. È qui che sabato intorno alle 14 sbarcheranno i 113 migranti soccorsi a largo della Libia dalla Ocean Viking. Tra loro 8 bambini sotto i 5 anni, 35 minori non accompagnati e 23 donne. Faranno scendere innanzitutto i bambini, i bambini, i donne, c'è una donna incinta e poi gli adulti. Qui ci sarà l'ingresso, da questo luogo, da questa porta entreranno e si svolgeranno i primi adempimenti che sono ovviamente di natura sanitaria, tampone, una visita sanitaria, una visita speditiva da parte del personale medico dell'ASL e della Croce Rossa. La tenso struttura da 3.000 metri quadrati di solito utilizzata per l'imbarco e lo sbarco dei croceristi verrà riscaldata e attrezzata con ambulatori gonfiabili, transenne, tavoli, sedie e brandine. A prendersi cura dei migranti i medici dell'ASL, i volontari della Croce Rossa e della Caritas e le forze dell'ordine. Qui sarà dedicata appunto alle postazioni della Polizia di Stato per gli adempimenti, fotosegnalamento, AFIS, identificazione. Finiti questi adempimenti verranno poi con i pullman portati a Bologna gli migranti che sono destinati alle province dell'Emilia mentre per quanto riguarda i migranti destinati nelle province romagnole verranno a prelevarli qui a Porto Corsini.